Alle tre stanotte siamo reso conto che era divampato un incendio e immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco che per il loro pronto intervento hanno circoscritto immediatamente l'incendio nella dependanza esterna. Ammontano ad alcune decine di migliaia di euro i danni provocati dall'incendio che martedì notte ha quasi completamente distrutto una dependanza dell'agriturismo ristoro del Venturo in località Lamurella, Castelnuovo Garfagnana. Le fiamme sono scoppiate intorno alle tre di notte ed è stata la figlia del proprietario a dare l'allarme. In pochi minuti i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e il loro immediato intervento ha evitato danni ancora più consistenti. Sull'origine dell'incendio sembrano esserci pochi dubbi, il ruogo sarebbe dovuto a cause naturali legate al gran caldo. Insieme ai pompieri sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Nonostante l'incidente l'attività non sarà interrotta. No, assolutamente. Sia la ristorazione è già in funzione subito da stamani e anche la parte turistica, la ricezione alberghiera e le camere sono in perfetto ordine e noi siamo in grado di garantirlo per tutto il mese agosto e anche successivamente.